Parte bene la stagione turistica 2019 nell'area del distretto turistico dei laghi e delle valli. Buone le prenotazioni per queste feste di Pasqua e novità, cresce l'interesse per la montagna. Da vivere non solo sugli sci ma soprattutto per passeggiate ed escursioni in mountain bike, lo riferisce il presidente del distretto Reste Pastore, che parla di una moda e di una rinnovata attenzione per le alte quote da parte dei vacanzieri, che scelgono di trascorrere qualche giorno nelle nostre località di montagna proprio per scoprirla a piedi o pedalando magari con tutta la famiglia. Questi turisti sono soprattutto italiani ed arrivano dai nostri classici bacini nazionali di riferimento, le principali città lombarde, piemontesi e il loro Interland. Ricordiamo che restano comunque aperte alcune delle stazioni scistiche del comprensorio di neve azzurra, San Domenico e Moro e Burchi Belvedere per la discesa, Riale e San Michele in Vale Formazza per il fondo, rimpinguate peraltro dalle recenti nevicate. Spostandoci sui laghi qui a farla da padrona sono sempre gli stranieri, molti hanno raggiunto le nostre qualità per le vacanze già nella giornata di ieri, tra le attività preferite, le visite alle isole e ai giardini botanici del Verbano, senza farsi mancare sempre apprezzatissime tappe inogastronomiche. Dalla Dristretto riferiscono dunque di un'occupazione positiva delle nostre strutture recettive per Pasqua e anche per i ponti del 25 aprile del primo maggio, con una collocazione delle festività particolarmente favorevole. Come sempre le prenotazioni tendono ad arrivare a ridosso delle date, con un occhio attento alle previsioni meteo. Gli esperti spiegano che nel nostro territorio in questo lingue weekend ci sarà il sole accompagnato magari da qualche nuvola passeggera, in particolare a Pasquetta le temperature saranno decisamente gradevoli, l'ideale per una passeggiata all'area aperta.